Via! Per la GP Solution è stata un'impresa a dovere questo albero? Sì, quest'anno GP Solution ha deciso di regalare l'albero di Natale alla città di Lomodossola. Lo ha fatto perché è l'istituto per abbellire la città, sperando di incentivarne anche il turismo e ovviamente per farci conoscere anche al grande pubblico. GP Solution è un'azienda che opera nel settore dei serramenti delle porte da più di 20 anni, vendendo materiali di qualità dei prezzi concorrenziali e speriamo di essere premiati per la città di Lomodossola per questo nostro sforzo. Perfetto. Grazie, vediamo un po' se...